Il governo Draghi nasce sotto il segno della svolta verde sull'onda del 37% del Next Generation EU, lo strumento anticrisi dell'Unione Europea, che dovrà essere investito in progetti per la transizione ecologica e la lotta all'emergenza climatica. In base ai 209 miliardi destinati all'Italia, si tratta di oltre 77 miliardi, senza contare i fondi verdi del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il bilancio europeo. Una potenza di fuoco eco senza precedenti che va ad alimentare il nuovo Ministero della Transizione Ecologica, che nasce su quello dell'ambiente arricchendolo delle competenze sull'energia trasferite dallo sviluppo economico. Sarà guidato da Roberto Cingolani, raccordandosi con le infrastrutture e trasporti di Enrico Giovannini e la transizione digitale di Vittorio Colao. Tutto l'esecutivo però avrà un'ispirazione verde. Qualsia cosa faremo a iniziare dalla creazione di posti di lavoro andrà incontro alla sensibilità ambientale e non andrà a gravare sulla situazione esistente, ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel primo Consiglio dei Ministri. Roberto Cingolani è il Ministro per la Transizione Ecologica del governo Draghi. Tecnico arriva da Leonardo dove è stato Chief Technology Innovation Officer, fisico di formazione a un curriculum a dir poco di peso, ricercatore al Max Planck Institute di Stoccarda, visiting professor alla Tokyo University e alla Virginia Commonwealth University negli USA, ordinario di fisica sperimentale all'Università di Lecce. Nel 2001 fonda e dirige il National Nanotechnology Laboratory dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia. Nel 2005 la nomina direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova dove ha lanciato il programma Humanoid Technologies, autore o coautore di oltre mille pubblicazioni, ha al suo attivo oltre 100 brevetti. La correlazione tra la salute del pianeta e quella delle persone è sempre più stretta. Tutti gli aspetti della sostenibilità globale sono correlati tra loro, dice Cingolani in una lezione alla Siena Advanced School on Sustainable Development 2020. Ecco perché la più grande sfida della tecnologia oggi consiste nello sviluppo di soluzioni che possano produrre benefici simultanei. Non basta più risolvere un problema alla volta, la sostenibilità è e sarà sempre un compromesso. Negli ultimi due anni non è stata minimamente potenziata la linea delle metropolitane presenti nelle città italiane. Tra il 2019 e il 2020 infatti non è stato previsto neppure un chilometro in più di rete metropolitana e il gap rispetto alle capitali europee comincia a diventare significativo. Questa è la tendenza che emerge dal rapporto pendolaria 2021 di Lega Ambiente. Salvo Milano, che continua ad essere competitiva in termini di rete metropolitana, le città italiane sono indietro rispetto alle principali europee. I chilometri di metro ogni 100.000 abitanti di Roma infatti si fermano a 1.4, molto distanti da Madrid che registra 4.48 chilometri di metro, Londra con 3.87 chilometri e Berlino che di recente ha raggiunto i 4.26 chilometri. Recuperare e conservare la trota mediterranea a rischio di estinzione in Italia attraverso tecniche innovative di selezione e riproduzione della specie, il recupero degli habitat e la tutela della natura in due bacini idrografici molisani, il Biferno e il Volturno. Questo è lo scopo di Life Natsalmo, progetto europeo iniziato circa due anni fa. Un obiettivo non facile viste le condizioni degli habitat e la massiccia presenza di trote all'octone o ibride. Ora però, grazie al progetto europeo, è nata la prima criobanca europea per il recupero genetico della trota mediterranea, con un innovativo protocollo per il congelamento del seme. Insomma, parafrasando impropriamente il famoso romanzo di Le Carré, possiamo dare finalmente il benvenuto alla trota venuta dal freddo. La criobanca, con il nuovo protocollo scientifico per il congelamento del seme, è un patrimonio per la nostra regione e un'expertise esportabile ovunque ci siano specie minacciate, spiega Nicolaia Iafaldano, docente dell'Università del Molise, a partire dal Salmone del Danubio nel Parco Nazionale dei Monti, di Maramures in Romania. Per tutte le notizie consultate il sito di re.it